L'eclissi? Ma io non sono pronta! No, 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 no! D'accordo, la luce sta ancora alimentando l'Ellestern. Il ritorno delle tenebre, l'arrivo dei guardiani. Ah, in un giorno senza giorno, la luce non avrà più luce. È una mia impressione o è più grande all'interno dell'Ellestern. Mi fido. Zot! Voi chi siete? Perché siete venuti? Torre, buttali fuori da qui! Perché io sono Aoki, la custode della conoscenza. Io sono colei che ha il compito di guidare i guardiani. Aspetta, scusa, com'è quella storia sulla cosa che diventa scura? I tuoi poteri della luce sono forti Ma non possono niente contro la furia delle ombre Gli elementi è protetta adesso Lasciami! Saremo anche tutti sciocchi Ma abbiamo vinto Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! La scuola di luce! L'abbiamo fatta insieme State lontani da me! Il frammento contaminato nel mio bracciale! Noi siamo una famiglia Famiglia? Ormai tu appartieni all'oscurità No! Io appartengo solamente alla mia famiglia! E finché saremo una famiglia La luce splenderà Per sempre!